C'è un po' di minore? Aspetta che non si deve andare C'è un po' di minore? C'è un po' di minore? C'è un po' di minore? C'è un po' di minore E' una creatura che ha visto quando ci ha conosciuto, aiuto Poi a San Vino è un po' di minore con i lignoni E' un po' di minore Io non ho capito che mi metti i calchi E' un po' di minore 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 Sessi Guarda, non mi dà mezzo Sessi prima Sessi vicino a te Sessi il noche Non ci andiamo bene il noche No, non ci andiamo bene il noche Sessi il noche No, non si, si la posse il noche e noi la mettiamo su un parco Sessi E' inutile, ci giocano Sessi Manca i miei Cantata come? E' 90pilare Tre anno si manca la mia Sessi Sessi E' un mese per 6 No, no Quasi Sessi Sennò arriva a Ferrauccio pure me Poi Babbo fai cari Una volta sì, una volta no Un'altra volta mi ha fatto un lettino Babbo E' fin mezzo, come un lettino fin mezzo Io sono Ecco qua Fini mezzo, più pari interessati Sì, ti vai? Misa su noi Sì 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 Noi siamo sinnova Però ho detto E' imbezzata lentamente in silenzio Quindi, non voglio andare a provare con il città, questa parola è città, ti lamenta chi è la usata di città? In Italia non lo usiamo. Ecco, in Italia si città una sorta di etica che aveva un maiazzo, per esempio, in PIA, aveva un rito sciamanico che aveva una sernia, una sernia singuinale che aveva un po' di tassi, e poi aveva un po' di tassi, un po' di tassi, un po' di tassi, un po' di tassi. Quindi, ero nato proprio sul lume dell'esercito, nel lume dell'esercito avevo un greco, noi abbiamo un giornalista pure, avevo un greco di sugalosso, che è una grande biblioteca, e noi sono un greco di una polacca, una dica che è una polacca, in cui ha calosso, ma non, lei è sardo, e avevo un po' di sardo, un po' di lacco, ma è Cracovia, bella bella. Non mi copiare la sabattura, senza un po' di denunzio, senza documento puro. No, Matteo, però, scusa, se mi lascia a fai dare... Eh beh, mamma, signor Raffae, avete due! Continua a fila, tu, sei che fila? Se hai intenzione di trattenere? Uno fai da io a Paco, uno è mudo, e uno... No, uno è mudo, e l'annato su Teracco, e l'annato su Patrona, e l'annato su Patrona, andato a serrare un daio, e l'annato su Patrona, e come si andava? Non l'aiuto, non l'aiuto, non l'aiuto, se ne ha questa brunizza che ho fatto in... io non ho proprio a serrare un aio, perché era un uratto di brunizza, non sono andato per serrare un daio, e tanto ha detto se si andava, a serrare un cattino... non l'aiuto, non l'aiuto, non l'aiuto, non l'aiuto, non l'aiuto, non l'aiuto, se mi puoi portare un'opera, come se la vi è in casa, è davvero, è davvero, si, benissimo! Passo tutto mio! Quindi, in te che li montano, come hai visto il turismo, che non sono le persone dai tempi? Si, 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 la mia è serrata! Come ti dicono voi con questa tecnologia? Eh, non dicono! E' Whatsapp, eh! Voi facciano mezzo con questo lì, o con questo compito? Ah beh, se lo compito, voi già riporti con me! Eh, ma non mi sento me la cosa difficile, sai che progetti? Ehi te! Adesso comprendo qua questa cosa facile! Tu sei stata soggiata, come ti metti mesina, guarda! Mesina, vi dà soggiata, una dì andiamo a Monseremia di Bergamo, che la puoi aiutare il goslo! Mesina, però, mi chiede di interrompere! Come ti c'è un bandito? Eh, ma però, ho fatto una vita di uno di graziato! Bello! E allora! Oramai, oramai, levo fuori dai dopo, e se che torna ad entrare! Dandoli via questa galera! No! Il lupo perde il vizio, ma non è il pelo! E questo è il suo contrario! S'ha battuta a vedere! Il lupo perde il pelo, ma non è il vizio! E se vede questa categoria! Allora, hai il terreno in questo? No, come se c'è il capo! Ma, è venuto pienamente a Ittiri! Un gran signore, una macchina lunga, insomma, questa autista! Intanto, un collega oltre, Gesù Cristo è nato, fatte ciò che dicono, ma non ciò che fanno! Finso il fariseo, questo che è il mollino! Quindi, è rotto in antipatia! A deluso! A deluso! A deluso! A deluso! A deluso! Tutto a deluso! Tutto a deluso! Sobine! Sobine! In generale! Come, a deluso del suo comitato, che ti so, se lì che sudorino, indossa una maglietta color vinacea, sudorino, quando vi ha minorito, ti la metta! Come due del calcio, quando è molto posto copi! Però, vi vedi Pulici! Pulici! Poi vi vedi! Gioatemi oggi! Vi vedi? Chi era l'alterego di Pulici? Su Centravanti e Sudorino! Non lo fa mai ricordare! Chi è? Ciccio Graziani! Non lo fa la metà più! Ciccio Graziani! Ciccio Graziani! Visto numero uno! Mazzola! Mazzola! Che si è messo in Sinterecomo! E non mi c'è sasso con chi butta! Non mi c'è nessuno! Quindi, la intesiamo di nuovo! Ciccio, ho pagato l'azzo, questo biglietto! Eh, tanto! Questo per lo pagare! Questo per lo faccio teo! Tanto! Siamo presentando il casero! Guarda, questo motore che sono in disarmonia con il creato! Siamo presentando uno di questo! Sì! Diccio! Cantone! Sì! C'è il cantone! Sì! Sarebbe più allegro! Eh, ma qui ci sono tutti un robato! E sono! Mi sono lanciato! Allora, è leggendo! Lo leggo io! Mi sono lanciato su una nave senza timone! Nella vastità dell'infinito! Sì! 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 Allora, è leggendo! Mi sono lanciato su una nave senza timone! Raimundo Pira quando dice suonare il verso una dica mi dice Peppe! Sì! 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 Buonasera! 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 No, mamma! Mamma tu! Questo è il suo parente! Questo è il suo parente! Sì! Questo è il suo parente! Quindi il tuo cantante di oggi! Il cantante di come? Il cantante di Maria De Filippi e di Raffaella Carrà non sono bello come il suo primo! Ecco! Come il Gianni Morandi Come il Gianni Morandi Come il Gianni Morandi Il cantante di ora è stato bello! Il cantante di tutti con il suo sacramento con tutto il suo sacramento E altri che non lo conoscono Chi? Uno non lo conosce! Uno! Claudio Villa Claudio Villa Ma come non è mai se il suo carattere non è possibile? Claudio Villa che è brillante con tutto a Pippa Pato tu hai una tia che ha filtrazione satiroide Claudio Villa hai un carattere però fai bravo! Fai ragione tu Come il cantante fu bravo Bravo hai una oga solo magari ognuno giudica come c'è la vita come il cantante la bocca è bella però sul genere di cantare non mi piace sul genere più antico non so Mieloso Presunzionoso non so non so non so poi da che lo sapete non si rassegnava io ecco un pezzo lui ci tenco però riparato io quindi chi non accettano si confitta per esempio ma vuoi mettere Annibale? Sì Anibale Barca? Anibale Barca ma con chi è la Iana? Ma con chi è la Iana? Ma poi attila poi quindi ti ha fatto una confusione in coca che manco eh signoria dove parliamo? Certamente che ha fatto il cuore ha poi io cazzo con signoria tipo Annibale però fin cartagineso ecco a Museremia in questo periodo potete collocare Annibale che parte di Cartagine a conquistare Roma lei te l'hai ha conquistato Romano il periodo potete essere dicato i signori ha collocato questa guerra è cominciata dai primi uomini è andata a segnare questi uomini ma però la potete piegare lei te ma a me dai Svizie lo so tanto lui sta dicendo che Caino hanno Satele esatto però la potete la poterà la razza viene tutta questa generazione esatto poi la metà c'è Chiarella una tipografia dettata che ha Serrato Chiarella ha Serrato sui giornalisti che ha detto a voi lei te quando i clienti saperanno l'attività al campo come te come con il computer è molto più facile e più veloce adesso cominciamo qui figli Caino è Adele femmina vissasorre ad imbagliare poi su Abele Caino a un certo punto ha fatto a Eva ma te come continuate questa generazione ti hai fatto la mia mamma? ti hai pensato di quella cosa del suo maschio che si sono mettendo a maschio come in questa generazione questa femmina non si comprende nè chi è a maschio nè chi è a te ma chi è che non c'è non c'è chi vuole il suo maschio da te potele a te 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 però non si diano come te come come per esempio la televisione come si sta da bianco tutto tutto e lei non si sta a bianco ma che se non è capitato a noi Matteo quando stai ragionando con noi la bianco non lo usi ma manco non lo vedi ma ho fatto un regalo però promettetemi che non che la furia c'è tanto tanto questo ragionamento è questo no promettetemi che la furia sia in terra se no la guerra continua e non è che deve essere furia non mi cosa lo va a dire tanto lo diamo al suo padrone l'altro suo padrone l'altro suo padrone non mi dice il suo zafferano che è più saporito quindi mia abba come la risa lei è la moglie signora? si sta ascoltando questi discorsi che stiamo facendo con zio Pai è questa è la mia è la mia è la mia tanto Polifemo è la mia Dio non si comprende nessuno che prima non è il suo lavoro oppure il suo lavoro e lei non capisca allora non ho deciso non ho capito come il suo lavoro e non si comprende niente come il suo lavoro e il suo lavoro non si comprende più nel mio e il suo lavoro è la sua giusta e il suo lavoro era riposto chiamiammi su Facebook in un maggio un'induliscanza e un'altra cosa, e l'ha fatto chiamami su Facebook per invitarmi a cena e si è andata. Comunque torniamo a noi, il casero presentiamoci. Ma non si sapevano chi ti ha fatto? No, questa guerra. No, questa guerra. No, non si comprende, il suo padre o il suo vizio? Il suo padre o il suo vizio? Con questo divorzio, no? Ecco. Divorzio, a voi che ci sono una pare. Si. E' nata, se ne andai a marito e muzzere. Si. O e non si chiede su. In terra lavoriamo. Ecco, potremmo parlare di questo. Muttente l'istoria. E' cambiante. O in peso, o in mezzo, però è cambiante. Sì. E' cambiante. Tanto. E' pagare per l'aula o non è più come prima. Sì. Una briga. Scusa, si interrompe. Una briga deve finire. Provinare questa peraula. Eh. E deve la ponare. Ma si può dire chi è più in mano? O se è più in mano da dove hai fizzato. O è fizzato più in mano da te. E anche voi comandano tutto. Comandano su Fizio. Comandano su Fizio. E te lo fai dai. Buon andando a tutti. E' da poverso. Tra il tutto o tre se come hai detto ci sei chiamato, questo trivaglio. Sì. E sei contento di comandano se si chiamato? Sì. So che ho fatto tutte le vare le poverze. Ecco, su tutte le peraula per esempio, a me mi interessa me la. Una palla su chi potete. Eh sì. E su chi potete. Per esempio, il papà non era sempre a mamma, compra lì sul libero, sai questo picciocco? Devo via subire sul vizio maschio più umano, sul primo genito. Lei te nocchiezzo che vette al suo capofattuteo. Cioè, esse pari a chi, esse noccheria da chi su vizio andai a finire, se a rotaia come ti ha fatto, esse che poni a ghiaia e rotaia dai salini a via che gli fanno, però passai su vino. E' pritito, un trapaglio. Un trapaglio, però meno pesante, secondo esse. Eh, ma ho fatto un trapaglio, questo che era fatto. E lei te nocchiezzo, comprati il suo libro proletudiato e lei te nocchiezzo. E poi conto a me, ripuro. E poi siete parenti con il papà. Infatti, se a bailarne si ammattessi. E' tutto. No, di tale e quale, non dimentiché nulla. E infatti, su colorito che sa vede oltre e sa vede del papà, sai papà c'è ancora più marrone, una dì sono parlato a campagna e non è papà, mamma. E lui le si vuole. E se vedi, se si era davanti a un'avola di gheco, e non si comprendia chi venisse e chi ha visto gheco. Da il suo colore, da il suo gheco. Quindi il gheco deve essere il suo sole che ti ripaglia, dai. Eh beh, non mi ha detto. La carnagione è sua? No, la carnagione è del suo trapaglio che fa. Lei ha un sommessatore e dei nanti. Non è cotto, dai il suo sole. Non si siano nessuno. Niente da l'Africa. E nemmeno da l'Africa. Non si comprendia se vince nei calessi o se tutto? Eh, è un bruciato, dai. Ma non mi ha detto. No, ma io c'è il regione. Devo svegliare le zanzi in Africa. Poi uno che sta dentro e dopo, quello qui l'ha sempre bianco. E' un colorito più bello. Più bello dipende. Dai, Mario. Potete essere quasi... Uno è bianco malaito. No. Devo svegliare in Africa. E una dire in un villaggio africano. Mi dai ad uno, proprio niente vidico, proprio come tornare a ora l'Arzo. E questa è la pBY come se vuoi che vi sanno. E la pBY come se la vi... Tu l'hai detto vigilemente sul Vizio che vi prende in una campana di pocù in Africa. E li fanno dai in africano neanche, però devo intendiare uno suono familiare. E li fanno dai. FALLA CA GAUCIOSSO! Non ti è dica questa cosa, FALLA CA GAUCIOSSO! Fala caggioso, però è nato in africano, fala caggioso, veloce! E quando c'è un pizzo in africano, per esempio, voi mai dormite in una parafitta? No, non mi sono entrato, in campagna sono dormite o meno. E se non c'è un pizzo in giungla? Forse sono animali. Ecco, la zimpeccata è prima, la mosele mia è la seconda. Però è giusto, non sono tutti quelli che erano soli, da che erano soli diventano niente. Capito fino a me, la mia mamma la saprezza, se lo si mette dentro il burro. Poi se ti mette cannibalismo come? No, è cannibalismo, non c'è una canna che a mia mamma, ma niente niente, non mi ha dimenticato di introdurre. E' che ha povertato l'uomo, se non ancora la città. La cultura non è reale, non è reale. A superiore della giovinezza oltre, non è la vita, non è la vita, non è la vita. Non è la vita, non è la vita, non è la vita. Come è diventato questo francesismo una parola internazionale? No, non è la vita, non è la vita, non è la vita. Tu sei da Ittiri? Sì. Quindi sei con noi che è stato anche Santupacale quando lo faccio già io. Sì. Santupacale che è stato conosciuto a Fofo di Sumania, quando negli anni 70 aveva usato la discoteca. Fofo, già l'ha conosciuto. Ho fatto una faccia quanti anni mi fai da io. però Fofo vedi, per esempio, il suo primo che ha battito il pettacolo, il suo diventimento in Ittiri. Ittiri è una etichetta manna per questa posizione. Più manna per questa zona. ho 10.000, quasi 12.000 abitanti. Forse qualcuno in meno adesso. Però... dopo aver uscire il pettacolo, sennò non finire mai questa zona. Questo è il pesante palco. Poi dovevo mandicare. A questo tempo, quando ho visto il pizzo, si deve dare come in teore dei vegetariani, vegani, fruttariani. Pagano il pettacolo. E' un pettacolo. E' un pettacolo. E' un pettacolo. Se mi chiedevi se è stato minore, tre battano il pettacolo, non mi metto. Se ti clicchi veloce. E' un pettacolo. E' un pettacolo. Mi chiedeva, A una sette, andando e cazzo. E' un pettacolo. Dopo aver guardato il pettacolo, si è fatto due gherese. Sì. a questo tempo passa il prodotto, tanto sono sate. Io l'ho prodotto. Non neanche uno. L'ho prodotto a collo. E' un pettacolo, e senza dare con un sacco. E' un cucciolo. Che sono cucciolo? Io, se non si presentano. Ma su tutto va il reggino Paoli, che non l'è andato neanche una serata. Issa gli chiedono da venire lì, siamo 007, di James Bond. Lo chiamavano il fratticello, il santerello, Sant'Ignazio dei nuovi, Sant'Ignazio, Sant'Ignazio d'Alacone, D'Alacone? Sì, vengo dall'Alacone. È bella, è carina, è molto bella. Buon aria? Non mi l'ammento, non mi l'ammento, non mi l'ammento. Il sugo in Montagese c'era stata la nevicata, la nevicata nel 1956 che mia Mardini l'ha ricordata in quella canzone bellissima. Una famiglia. Una famiglia. Il culto cd è registrato come tanzibiti, noi che vada a un manorama. D'Alacone proprio. No, il culto è Salighiera. Il Lacone sono le cose in obiettate, il Lacone è accaduto e bisogna un culto molto. D'Alacone è accaduto e bisogna un buco che vada a un domo. Tu sei confondendo con un cappuccetto rosso, eh? Tu sei confondendo con un cappuccetto rosso, eh? Il tema del resto. È uno principale. Ah, lui sta dicendo l'Americh. La famiglia Americh, i marchesi nobili di Lacone. Saba non mi manca però con Lacone. Saba è bella. Saba è bella. Saba è bella. Però abbiamo anche il vino. Eh no, il vino pure. No, il vino pure. Il vino pure. La famiglia è bella. La famiglia è bella. La famiglia è bella. La famiglia è bella. Ma non sono tutta una casa nostra. Ebbè, a Ittiri. Ebbè, a Ittiri mi fanno male. Se è diventato com'è da questa famiglia bella, sarebbe Ittiri Canedo, Canedo Arrivedo Ianna, eh? Perché fu il principale. Eh, mentre se si viene il croco mia a James Bondo. Dei marchesi? Dei marchesi. Marchesi di Americh. Esatto. Una bella ida per noi. Sì. Quindi, se si viene da accolto, noi ci introduciamo, introduciamo in anteprima all'esterno, alla luce del sole, questo lavoro che presenteremo poi all'interno. Questa è brava, una famiglia. E quanta più la fai da te? Non fai da nulla ti hai insomma. Si mentica. Si mentica. A buona metà che sei in sott'ortola voi? Voi sono bello, non anche non brigano. L'alleale è stato 31 il vivetto. Non brigano, i vecchi si brigano. Chi è? La terravia è finita, c'è una bella gente, sette da voi. Siete da qui, sette da qui. Io non dico. Da che sono bello, non è che bella è nello senso. Cuccio. E' andato qui. L'altro lui ha risposto, tu non lo sopiggio. Io non lo sopiggio. E' lì che presto non lo sopiggio. Non lo sopiggio mai. Eh beh, questa saggezza antica adesso salto. Non lo sopiggio mai. Non lo sopiggio, non lo sopiggio, non lo sopiggio. Non lo sopiggio, non lo sopiggio, non lo sopiggio. Come che ti hai? Ti metti peso, non lo sopiggio. E' un po' di tanti, dammi la mano. Ah, non ti lo sopiggio, non lo sopiggio. Faci di lui, qui ti bello regalo a te. Poi ha brigato con questa musere. E' andata non le facciamo solo eh. Ma è andata te non ne sopiggio per te sei carognato. Ho detto sui carognato. E' lì che stai andando sui carognato. Stai andando a poco uno che da tieni. E' andata te lì. E' andata te lì. Cosa succede? Tenete lui, questo buon regalo a te. E' un po' di tanti, e' un po' di tanti. Ma non è che ti ho visto a mio. Vabbè dato questo regalo a un po' di tanti. Però... Ah questo è del tuo ragazzo? Sì, questo è del mio. Adesso è così. Piaghe sui carognati. Piaghe sui carognati. No no. Introducete voi questo piccolo concetto. Poi ho un po' di tanti. La fai da poi la tua. Introducete quello che ti dico, che non chiamiamo l'intro, che la gente ha famiglia. Tanto devo mettere solo le altre. Sono dei piaghe. E sono presentanti quello che ti dico. Se la vi, ci sono presentanti ufficialmente in questo luogo particolare. Siamo pagati. Mi fa che piacere quello. Però pagano ma non so. Quando siamo pagati, possiamo ascoltare di più. Da quando siamo metati. A questa città, su contonelli. Pensate che città, è nato proprio di fronte a mamma. Fì, contonelli. Sì. Sì che è molto. Sì, sì. Però quando sono fitto, Santonello, Uccio, Gianfranco. Volere. Eh. Volere. Sì. Però ci dà proprio il mercato, questo proprio. Capelazzo. Davonaglia. 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 Eh. Vai in. Sì. E quindi, adesso possiamo fare una cosa. Dove sono? Sono le sette, ma dobbiamo aspettare ancora che arrivino altra gente. No. 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 ÈAmericansimo palazzo malattie. È abbastanza lì, c'è la prima. È un ind delivered un vero chip. Ébate, c'è questo. È un ingalare intensa, perché attiva bene. Deve più, conammai ciò che gli klimano è un No, come è effetto, non è un Called pertetto del periodo. Cosa direbbe.